Una banca che oltre al sistema creditizio ha tra i suoi obiettivi quello di sostenere la crescita del territorio di riferimento. E' la Banca Popolare Pugliese che ha illustrato a Foggia la sua dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2018, ossia la comunicazione di informazioni su sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, catena di fornitura, gestione delle diversità e gestione dei rischi. Una dichiarazione ha spiegato il Direttore Generale della Banca Popolare Pugliese Mauro Buscicchio per indurre a comunicare in modo corretto e oggettivo gli impatti non finanziari della loro attività, ma fare in modo che questi temi entrino a far parte del target aziendale, favorendo un cambiamento non solo organizzativo ma anche culturale. Un gruppo dunque con un occhio attento anche alle questioni ambientali e culturali di sostenibilità perché lo sviluppo di un territorio non può prescindere da queste tematiche. Ecco perché la Banca ha voluto incontrare nuovamente gli stakeholders del territorio per avere sempre un ruolo attivo e propulsivo per lo sviluppo economico e per la crescita sociale dove opera. Un gruppo che è stato rimarcato nell'incontro vuole continuare a sostenere in ogni campo l'attività produttiva del territorio di riferimento, supportando le famiglie e le imprese anche nei momenti di particolare difficoltà. E per fare questo tra le missione della Banca Popolare Pugliese c'è quella di allocare la maggior parte delle risorse nello stesso territorio in cui sono reperite. Grazie.